Abbiamo bisogno di amministrazioni di prossimità che si dedichino 24 ore al giorno alle diversità e alle necessità e alle esigenze di realtà diverse ma interconnesse. Abitare a Chirignago a Pellestrina non è la stessa cosa. Il comune di Venezia è steso e complesso e bisogna prenderne atto. Per questo Marco Citran, candidato sindaco della lista civica Citran, propone azioni e attenzioni specifiche per ogni realtà che lo compone. Per Venezia ovviamente un blocco di destinazione dei cambi d'uso, un tentativo di ripopolamento della città mettendo anche in salute e in manutenzione 4.000 alloggi pubblici che sono abbandonati a se stessi invece con affitti calmierati potrebbero sicuramente già da subito portare nuova linfa a Venezia. I problemi in attesa di risposta in Laguna non sono quelli dell'entroterra. Anche nell'entroterra serve un'azione mirata, delle scelte amministrative precise che si prendano carico di risolvere i problemi. Per Mestre la sicurezza perché è diventato un hub della droga molto pericoloso, molto degradato, non è stato fatto nulla, una nuova identità e una grande attenzione anche alla cultura e alla storia di Mestre che è trascurata per ovviamente interessi alieni alla cittadinanza e per l'omologazione con Venezia. Marco Citran propone una svolta piena dopo 5 anni di un'amministrazione della quale non salva niente. I tradimenti elettorali al ballottaggio nel 2015, il boicottaggio del referendum, un'istanza democratica prevista dalla Costituzione, le mancate promesse elettorali di questo sindaco che aveva promesso di gestire i flussi turistici, non ha fatto nulla, aveva promesso di portare 30.000 residenti in più ed invece siamo arrivati a 30.000 residenti in totale. Quindi noi stiamo perdendo popolazione, residenti sia a Mestre che a Venezia, è stato fatto qualche maquillage, qualche aiuola o qualche asfaltatura per pensare ma non è ovviamente così che si possono risolvere i problemi.